Hazel Hazel era quasi dispiaciuta per Clizio. Lo attaccarono da ogni direzione. Leo gli sparò del fuoco sulle gambe. Jason si alzò in volo e lo prese a calci in faccia. Frank e Piper lo colpirono al petto, con le spade. Hazel era particolarmente orgogliosa di Piper. Ricordava benissimo le lezioni di scherma che le aveva dato. Ogni volta che il velo di fumo del gigante tentava di avanzare intorno a uno di loro, Nico era pronto a farlo a fette, assorbendo le tenebre con la lama dell'ostige. Percy e Annabeth si reggevano di nuovo in piedi, e pur essendo debole e intontiti, avevano la spada sguainata. Hazel si chiese da quando Annabeth ne avesse una. E di cosa era fatta? Avorio? Avrebbero voluto dare una mano, ma non ce n'era bisogno. Il gigante era circondato. Clizio ringhiò, girandosi avanti e indietro come se non riuscisse a decidere chi uccidere per primo. Aspetta! Fermo! No! Dai! L'oscurità intorno a lui si dissolse, lasciandolo con l'unica protezione dell'armatura mal ridotta. Licore stillava da una decina di ferite diverse. I tagli si richiudevano quasi con la stessa rapidità con cui venivano inflitti, ma Hazel intuì che il gigante stava perdendo le forze. Jason volò contro di lui un'ultima volta e gli disintegrò il pettorale a calci. Clizio vacillò, perse la spada, crollò in ginocchio e i semidei lo circondarono. Solo a quel punto Hecate si fece avanti. La foschia si avvolse a spirale intorno al gigante, sibilando e gorgogliando quando gli sfiorava la pelle. E così finisce qui, disse la dea. Non finisce qui! La voce di Clizio riecheggiò dall'alto, ovattata e strascicata. I miei fratelli sono risorti! Gea attende solo il sangue dell'Olimpo! Per sconfiggere me c'è stato bisogno di tutti voi riuniti assieme! «Cosa farete quando la Madre Terra aprirà gli occhi?» Hecate capovolse le torce. Le lanciò contro la testa di Clizio come fossero pugnali. I capelli del gigante si incendiarono più in fretta della legna secca e le fiamme si diffusero dalla testa al corpo, fino a quando il calore del falò non costrinse Hazel a indietreggiare. Clizio cadde senza fare rumore, sbattendo la faccia sui detriti dell'altare di Ade. Il suo corpo si disintegrò. Per un attimo tutti tacquero. Hazel udì un suono stridente, fastidioso, e si accorse che era il proprio respiro. Si sentiva come se le avessero sfondato il petto con una riete. La dea Hecate si girò verso di lei. «Ora vai, Hazel Levec! Porta i tuoi amici fuori da qui!» La figlia di Plutone strinse i denti, tentando di trattenere la rabbia. «Tutto qui! Niente grazie! Niente ottimo lavoro!» Gale mise un verso stridulo, forse era un addio, forse un avvertimento, e scomparve fra le pieghe della veste di Hecate. «Cerchi la gratitudine nel posto sbagliato!» disse la dea. «Quanto all'ottimo lavoro resta da vedere! Correte ad Atene!» Clizio aveva ragione. «I giganti sono risorti, tutti, e più forti che mai!» «Gea sta per destarsi!» «Se non arriverete in tempo per fermarla, la festa della speranza dovrà cambiare nome!» La sala rimbombò. Un altro pannello cadde dal soffitto e si frantumò a terra. «La casa di Ade è instabile!» riprese Hecate. «Andatevene subito! Ci incontreremo di nuovo!» E si dissolse. La foschia evaporò. «Che simpatica!» mormorò Percy. Gli altri ragazzi si girarono verso di lui e Annabeth, come se si fossero appena accorti della loro presenza. «Ehi!» Jason lo abbracciò. «Di ritorno dal tartaro!» Leo esultò. «Grandissimi!» Piper gettò le braccia al collo di Annabeth e pianse. Frank corse da Hazel. «Sei ferita!» «Costo le rotte, probabilmente», ammise lei. «E tu? Cosa hai fatto al braccio?» Il figlio di Marte abbozzò un sorriso. «È una lunga storia. Siamo vivi. È questo che conta!» Hazel era così frastornata e sollevata che ci mise un po' a notare Nico in disparte con un'espressione sofferta e contrastata in viso. «Ehi, fratellino!» lo chiamò, invitandolo ad avvicinarsi. Nico esitò. Poi la raggiunse e la baciò sulla fronte. «Sono contento che tu stia bene. Gli spiriti avevano ragione. Solo uno di noi ce l'ha fatta raggiungere le porte della morte. Penso che tu abbia reso nostro padre orgoglioso!» Hazel sorrise, posandogli delicatamente una mano sul viso. «Non avremmo potuto sconfiggere Clizio senza di te!» Passò il pollice sotto un occhio di Nico e si domandò se avesse pianto. Quanto avrebbe voluto capire cosa gli stava capitando e cosa gli fosse capitato nelle ultime settimane. Dopo tutto quello che avevano passato, era più grata che mai di avere un fratello. Prima di riuscire a dirglielo, il soffitto vibrò. Grosse crepe comparvero sulle piastrelle rimaste. Colonne di polvere si rovesciarono a terra. «Dobbiamo andarcene!» disse Jason. «Frank?» Il figlio di Marte scosse la testa. «Penso che per oggi un favore dai morti bastì avanzi.» «In che senso?» domandò Hazel. «Fai per inarcole sopracciglia. Il tuo incredibile ragazzo ha evocato gli spiriti di alcuni guerrieri morti. Li ha costretti a condurci qui attraverso…» «Beh, non saprei a dire il vero. I barchi dei morti? L'unica cosa che so è che era molto, ma molto buio.» Alla loro sinistra una parte del muro si spaccò. Gli occhi di rubino di uno scheletro di pietra schizzarono fuori e rotolarono sul pavimento. «Dovremo viaggiare nell'ombra!» disse Hazel. Nico trasalì. «Ci riesco a malapena quando sono da solo! Con altre sette persone ti aiuterò io!» Hazel tentò di apparire sicura. Non aveva mai viaggiato nell'ombra e non aveva la minima idea se ne sarebbe stata capace. Ma dopo aver manipolato la foschia e alterato il labirinto, doveva per forza credere che fosse possibile. Un'intera sezione di piastrelle si staccò dal soffitto. «Prendiamoci per mano, tutti quanti!» gridò Nico. Formarono rapidamente un cerchio. Hazel visualizzò la campagna greca sopra di loro. La grotta crollò e lei si sentì dissolvere nell'ombra. I ragazzi apparvero sul fianco di un colle affacciato sulla cheronte. Il sole era appena sorto, facendo scintillare l'acqua e brillare di arancione le nubi. L'aria fresca del mattino profumava di caprifoglio. Hazel stringeva la mano di Frank sulla sinistra e di Nico sulla destra. Erano tutti vivi e per lo più integri, notò. La luce del sole fra gli alberi era la cosa più bella che avesse mai visto. Avrebbe voluto vivere per sempre in quel momento, senza mostri, né dèi o spiriti malvagi. Poi Nico si rese conto di tenere la mano di Percy e la lasciò subito andare. Leo vacillò. «Sapete, credo che mi metterò a sedere!» e crollò a terra. Gli altri lo imitarono. Largo 2 fluttuava ancora sopra il fiume, a qualche centinaio di metri di distanza. Hazel sapeva che avrebbero dovuto segnalare a Hedge che erano sani e salvi. Erano rimasti nel tempio tutta la notte? O diverse notti? Ma in quel momento erano troppo stanchi per fare qualunque cosa che non fosse starsene lì seduti e rilassati, a meravigliarsi del fatto che sì, tutto sommato, stavano bene. Cominciarono a raccontarsi le ultime peripezie. Frank spiegò cosa era accaduto con la legione di spettri e l'esercito di mostri, di come Nico avesse utilizzato lo scettro di Diocleziano e come Jason e Piper avessero combattuto con coraggio. «Frank fa il modesto», disse Jason. «Ha controllato l'intera legione? Avreste dovuto vederlo». Lanciò un'occhiata a Percy. «Oh, a proposito, ho dato le dimissioni. Ho promosso Frank, nominandolo pretore sul campo. A meno che tu non voglia contestare questa decisione». Percy sorrise. «Niente da obiettare». «Pretore?» Hazel fissò Frank sbalordita. Lui scrollò le spalle, imbarazzato. «Eh beh, sì, so che sembra strano». Hazel tentò di gettargli le braccia al collo, ma si ricordò delle costole rotte e dovette accontentarsi di baciarlo. «Perfetto, direi!» Leo gli diede una pacca sulla spalla. «Bravo, Giang! Adesso puoi ordinare Ottaviano di pugnalarsi da solo». «Quasi, quasi!» Frank sorrise. Poi si girò verso Percy. «Voi piuttosto, ragazzi, raccontateci del tartaro. Cos'è successo laggiù? Come avete fatto a...» Percy intrecciò le dita con quelle di Annabeth. Hazel lanciò un'occhiata a Nico e colse un velo di tristezza nel suo sguardo. Forse pensava a quanto fossero fortunati a poter contare l'uno sull'altra. Lui aveva attraversato il tartaro da solo. «Vi racconteremo tutto», promise Percy. «Ma non adesso, ok? Non sono ancora pronto a ripensare a quel posto». Anna betannui. Poi guardò verso il fiume e sorrise. «Ehm, credo che stiano venendo a prenderci». Largo 2 virava a babordo, con i remi aerei in funzione, le vele spiegate al vento. La testa di Festus scintillava sotto la luce del sole. Anche in lontananza lo sentirono cigolare e sferragliare di gioia. «Grande, Festus!» gridò Leo. «Edge era prua». «Era ora!» gridò. Stava facendo del suo meglio per guardarli con aria torva, ma gli occhi scintillavano come se forse, ma solo forse, fosse contento di vederli. «Come mai ci avete messo così tanto, angioletti? Non bisogna far aspettare gli ospiti!» «Gli ospiti?» Hazel aggrottò la fronte. Al parapetto, accanto al satiro, comparve una ragazza con i capelli scuri e un mantello viola. La sua faccia era talmente coperta di fuligine e graffi sanguinanti che Hazel stentò a riconoscerla. Era arrivata reina.